Figlio di puttana Ma la smetta, questa è un'operazione straordinaria, se no la pianta la faccio arrestare Quest'uomo è un evasore, deve trovarlo e arrestarlo Sono onorato di questo incarico signore, lo svolgerò con il massimo impegno e cercherò di... Sanicata, veda di non fare come l'ultima volta No no signore, mi metto subito al lavoro, signore Avanti Signore Termati 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 non si fuma nei parchi 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 non si fuma nei parchi